Maggioranza a rischio sugli ultimi provvedimenti da votare entro la fine della legislatura, a cominciare dal DEF, il documento di economia e finanza, su cui MDP non garantisce il proprio sostegno. Nella formazione di Bersani potrebbe entrare in futuro anche Pietro Grasso, oggi super partes, ma adesso un ragazzo di sinistra, ha detto il Presidente del Senato. Da Mantova intanto Giuliano Pisapia chiarisce, non tentenno, siamo sfidanti del PD, ma l'obiettivo resta l'ulivo. A Tallin si apre il vertice europeo sul digitale, almeno sulla web taxi, 27 leader cercheranno di arrivare ad un'intesa unanime, ma a margine del summit restano i temi più difficili, a cominciare da quello dei migranti che si affronteranno in alcuni bilaterali. Ieri sera quello Merkel e Macron, oggi la cancelliera vedrà Gentiloni. In Catalogna si avvicina il voto del referendum sull'indipendenza. Madrid ha mobilitato le forze dell'ordine per impedire, dopo il sequestro di 10 milioni di schede, l'apertura delle scuole. L'ordine è di bloccare ogni iniziativa. Chi non obbedirà rischia l'accusa di ribellione contro lo Stato, ma gli indipendentisti promettono il voto ci sarà, anche se dovessimo passare casa per casa. Il Bayern Monaco licenzia Carlo Ancelotti. Il club bavarese ha ritenuto i risultati non all'altezza. In 15 mesi il tecnico italiano ha vinto la Bundesliga e due Supercoppe in Germania. E ora molti club vogliono ingaggiarlo, a cominciare dal Milan, protagonista di un'altra prestazione opaca ieri sera in Europa League, nonostante il successo. Vittoria anche della Lazio, pari dell'Atalanta a Lione. Sono le 7.31 in questo momento, buongiorno, benvenuti al telegiornale. Che apriamo andando a dare uno sguardo alla complicata situazione politica in questo momento nel nostro paese, dove ci sono leggi che rischiano di saltare, come appunto quella dello Ius Soli, e continua il pressing fortissimo da parte della Chiesa del Vaticano, che ieri ha contrapposto, diciamo così, l'approvazione delle unioni civili a quella dello Ius Soli, rimproverando per l'appunto chi si era speso in quel caso, mentre invece non trova i voti per dare una cittadinanza ai figli degli stranieri. Il richiamo, ovviamente, è all'Alleanza Popolare, in particolare che dà del filo da torcere al PD in questo momento, come ne sta dando anche MDP, che invece, dall'altra parte, minaccia, diciamo così, di non votare il DEF. In tutto questo si fanno nuovi acquisti, nuovi proseliti. Uno potrebbe essere sicuramente il Presidente del Senato, Pietro Grasso, che ieri si è dichiarato comunque ragazzo di sinistra. Nessun tentennamento, la mia prospettiva, è un nuovo ulivo. Giuliano Pisapia, dalla manifestazione organizzata da Insieme a Mantua, traccia la linea del suo campo progressista, un cantiere difficile, ma aperto a chi ci vuole stare, dice l'ex sindaco di Milano, sempre più convinto che per cambiare l'Italia ci vuole un nuovo centro-sinistra. Innovativo, aperto al mondo del volontariato, attento all'ambiente e a tutte le realtà sociali, perché solo unendo anime forze diverse sarà possibile raggiungere l'obiettivo. Deciso a non voler far parte di una sinistra minoritaria che non incide, Pisapia rilancia la sfida IDEM. Noi non siamo alternativi al PD, ma con questa legge elettorale siamo sfidanti del Partito Democratico. Il processo di unità voluto da Pisapia dunque procede insieme ad MDP e non solo. Anche dal PD arrivano segnali di una possibile intese. I ministri del Rio e Franceschini, ospite alla festa di MDP a Napoli, provano a fare da pontieri per accorciare le distanze e presentarsi alle elezioni nella stessa coalizione perché l'unità è indispensabile per vincere. Lavora per l'unità anche il presidente del Senato Grasso che non si sbilancia sul suo futuro politico. Se ci saranno le condizioni per un percorso visionario, valuterò oggi sono super partes, ma al resto un ragazzo di sinistra. Le tensioni però rimangono, soprattutto sul DEF, che MDP continua a minacciare di non votare se non verranno soddisfatte alcune sue richieste. Ius soli in primis. Siamo gente di governo, non faremo arrivare la troica, ma l'esecutivo apre le orecchie e non ascolti solo Alfano, avverte Pierluigi Bersani, ben sapendo che i voti di MDP al Senato sono decisivi per far passare il documento. A preoccupare per la tenuta della maggioranza ci si è messo anche Alfano che con lo stop allo Ius soli sembra aver virato verso gli ex compagni di partito di Forza Italia. Ufficialmente resta l'impegno del governo e del PD per approvarla entro l'autunno. Andiamo a Talline adesso perché si apre ufficialmente il vertice. ieri però c'è stata una cena e diciamo che sicuramente una delle protagoniste della cena europea è stata Angela Merkel perché la necessità da parte dei capi di Stato e di governo di capire quale sarà il futuro assetto del governo tedesco e quindi anche quali potrebbero essere i riflessi sull'Europa era ovviamente altissima. Ci sono state anche una serie di bilaterali. Oggi tocca al nostro Presidente del Consiglio Gentiloni. sapete il tema della cyber security è quello che domina tutto ma ovviamente anche le questioni europee la fanno. Da padrone. Non sappiamo se la notte abbia portato consiglio ma intanto la cena sicuramente sì. I leader dei 27 paesi europei riuniti a Tallin in Estonia dopo aver mangiato e bevuto insieme nella prima colazione informale si sono trovati tutti d'accordo almeno su un punto. Bisogna a tutti i costi mantenere l'Europa unita e per farlo bisogna essere aperti ad affrontare nuove idee. È sicuramente lo shock da post-Brexit a spingere verso questa inedita concordia ma anche da pre-Catalogna. Non a caso l'unico premier assente al consesso è proprio Racoy impegnato in casa dalla delicatissima questione al referendum catalano. Fatto sta che il Presidente Tusk ha già tirato un mini piano su tre punti. Primo, mantenere l'unità dell'Unione. Secondo, dare risposte più concrete ai cittadini come deciso a Bratislava e Roma. Terzo, consultare nelle prossime settimane tutti i capi di Stato e di Governo dei 27 per organizzare effettivamente il lavoro sulle riforme in modo da arrivare con delle proposte concrete al vertice europeo del 19 e 20 ottobre. Oggi però bisognerà passare dalle parole ai fatti per cercare di creare davvero quegli Stati Uniti d'Europa delineati da Emmanuel Macron nel suo discorso alla Sorbona e non sarà facilissimo, perché i nodi da sciogliere sono molti. Il Premier Gentiloni, reduce dal summit di Lione nel quale si è parlato molto anche di Europa vedrà prima dell'apertura ufficiale del vertice anche la cancelliera Merkel in un incontro bilaterale. L'Italia punta a riposizionarsi consapevole di una ritrovata sintonia con la Francia e anche del fatto che molte delle proposte lanciate da Macron non solo sono condivise dall'Italia. Il Presidente Mattarella è tornato proprio in queste ore a ribadire la necessità della figura del Ministro delle Finanze europeo. ma raccolgono alcune delle istanze presentate più volte da Roma a Bruxelles. Una su tutte, la flessibilità. Andiamo in questo momento adesso negli Stati Uniti perché sapete la vicenda al Russiagate, le possibili implicazioni e infiltrazioni della Russia nella campagna elettorale del Presidente Trump. ebbene Twitter, l'azienda Twitter, ha sospeso 200 account in qualche modo riferibili proprio alla Russia e lo ha detto dopo un'audizione svolta davanti alle commissioni di Camera e Senato appunto sull'intelligence che si stanno occupando di questa vicenda. Pochi giorni fa Facebook, ora Twitter. Il Vice Presidente Colin Crowell ha raccontato di essersi incontrato ieri con lo staff delle due commissioni di Camera e Senato e di aver fornito informazioni sul Russiagate. Ha svelato che Russia Today, il canale TV e web legato al governo russo, avrebbe speso 274 mila dollari nel 2016 in pubblicità per 1823 tweet. L'intenzione era quella di influenzare le elezioni americane. Quindi dopo Facebook, su cui si era focalizzata l'attenzione in questi giorni, ora anche Twitter avrebbe avuto il suo peso sulle elezioni politiche. In una nota l'azienda ha scritto di rispettare profondamente l'integrità del processo elettorale, pietra miliare di tutte le democrazie. E aggiunto, continueremo a rafforzare la piattaforma contro i tentativi di manipolazione. I dirigenti di Twitter hanno sospeso 200 account e continueranno a collaborare con gli investigatori. Nelle prossime settimane sono stati invitati a testimoniare sulle ingerenze russe alle elezioni presidenziali americane e a riferire se ci siano stati presunti contatti tra membri dello staff elettorale di Trump e il Cremlino. Alcuni esponenti della Commissione Intelligence della Camera hanno poi fatto sapere che ci sarà anche il mese prossimo un'udienza a porta aperte con diverse società tecnologiche per avere un quadro d'insieme e per capire se effettivamente la Russia abbia influenzato le elezioni. Proprio ieri c'era stato anche uno scambio di battute tra Trump e Zuckerberg con il primo che con un tweet ha accusato Facebook di essere sempre stato anti-Trump. Non si è fatta attendere la replica del fondatore del social network Facebook è una piattaforma per tutte le idee, ha risposto. In Catalogna sapete sì ormai due giorni a quello che dovrebbe essere un voto che ovviamente la Spagna non vuole tant'è che sono state sequestrate praticamente tutte le schede elettorali sono state chiuse le scuole tutti i posti dove si potrebbe andare a votare c'è anche un tentativo di mediazione che è stato messo in piedi in queste ultimissime ore dalla sindaca di Barcellona Ada Colau che però ha detto io vorrei votare voterò scheda bianca ma vorrei votare. È il giorno nel quale la Catalogna celebra la fine della campagna elettorale di un referendum che non è chiaro come farà a portare a termine tutte le forze per il sì si riuniranno in serata a Barcellona per mandare un messaggio quanto più forte possibile a Madrid. La risposta del governo centrale continua però ad essere una sola la consultazione è illegale e non si terrà ancora ieri ci sono stati nuovi sequestri di schede elettorali di urne improvvisate da parte della Guardia Civil altri due milioni e mezzo oltre alle dieci già mandate al macero nonostante questo le autorità catalane sono convinte che nulla può fermare la consultazione soprattutto non i diecimila uomini delle forze di sicurezza inviati da Madrid che hanno l'ordine di circondare i seggi per non fare entrare nessuno voteremo anche andando casa per casa dicono i sostenitori del referendum ieri di nuovo in piazza con 16 mila ragazzi e se necessario metteremo la nostra scelta dentro una scatola da scarpe l'ultima alternativa è addirittura usare gli ospedali come centri di voto l'assemblea nazionale ha chiesto in ogni caso ai catalani di mettersi domenica in fila sin dalle 7 di mattina mostrare al mondo gigantesche code segno della volontà di separarsi da Madrid e il ministro degli esteri del governo locale Raúl Romeva da Bruxelles non ha lasciato dubbi se vince il sì entro 48 ore il Parlamento catalano proclamerà l'indipendenza è il giorno nel quale la Catalogna celebra la fine della campagna elettorale di un referendum che non è chiaro come farà a portare a termine tutte le forze per il sì si riuniranno in serata a Barcellona per mandare un messaggio quanto più forte possibile a Madrid la risposta del governo centrale continua però ad essere una sola la consultazione è illegale e non si terrà ancora ieri ci sono stati nuovi sequestri di schede elettorali di urne improvvisate da parte della Guardia Civil un modo per dare una scossa proprio all'Unione Europea che fino ad ora si è trincerata più di una volta dietro il mantra rispettiamo la Costituzione spagnola in una posizione con la richiesta catalana di indipendenza e soprattutto in questo modo incapace di garantire quel ruolo di mediazione che sia Madrid che la Catalogna le chiedono evidentemente c'è stato qualche problema parliamo adesso invece di al-Baghdadi e dell'Isis è tornato sembra davvero che sia sua la voce del messaggio che è stato recapitato ieri e che è stato diffuso una ennesima richiamo alle armi e alla lotta dell'Isis non si sa però davvero quanto efficace e quanto davvero importante almeno a giudicare dalle reazioni internazionali è una chiamata alle armi un invito alla resistenza in Siria e in Iraq il messaggio attribuito ad Abu Bakr al-Baghdadi diffuso ieri da un sito jihadista la voce è autentica ha confermato l'intelligenza americana ma al momento non è possibile stabilire a quando risalga la registrazione certo è che affronta temi di strettissima attualità fa riferimento ad esempio alle minacce della Corea del Nord da Stati Uniti e Giappone parliamo quindi di poche settimane fa dura in tutto 46 minuti il messaggio ed è stato analizzato punto per punto su Twitter da Rita Katz l'informatissima direttrice del Site Intelligence Group che monitora le attività jihadiste sul web America Europa e Russia vivono in uno stato di terrore hanno paura dei nostri attacchi ancora la Russia approfitta della debolezza americana prendendo le redini del conflitto siriano dunque al-Baghdadi dato per morto diverse volte potrebbe essere invece ancora a capo delle bandiere nere insomma il sedicente califo la cui sorte è sempre stata avvolta dal mistero e la cui voce si era sentita per l'ultima volta nel novembre del 2016 potrebbe davvero aver beffato tutti quando nel luglio scorso anche la tv irachena citando addirittura fonti interne all'Isis aveva confermato la notizia della sua morte in un raid della coalizione nella periferia sud della città siriana di Raqqa uccisione che secondo quanto riferito a giugno dal ministero della difesa russo sarebbe avvenuta il 28 maggio scorso per mano dell'aviazione di Mosca anche se sia i vertici della coalizione sia il ministro degli estri russo Lavrov invitavano alla prudenza insomma la notizia non era mai stata confermata torniamo invece adesso in Italia per parlare di un altro scandalo ambientale o almeno così sembra dalle indagini che sta compiendo la magistratura che riguarda ILVA ma non solo era un circolo vizioso c'erano risparmi nello smaltimento di rifiuti illeciti e guadagni dalla vendita di ceneri pericolose secondo gli inquirenti tutto avveniva in Puglia in un triangolo tra la centrale termoelettrica Enel di Cerano nel Brindisino la cementir di Taranto e i vicini parchi per la conservazione delle scorie di lavorazione nello stabilimento dell'ILVA procedure irregolari nel ciclo produttivo reati ambientali che andavano avanti da almeno cinque anni e avrebbero prodotto un danno che supera il mezzo miliardo di euro per questi motivi la procura antimafia di Lecce ha disposto il parziale sequestro sia pure con facoltà d'uso degli impianti delle tre società coinvolte nel presunto traffico illecito dei rifiuti e ci sono 31 indagati tra loro gli ex vertici delle aziende Nicola Riva figlio dell'ex patron dell'ILVA l'ex presidente Ferrante l'ex commissario Bondi e gli attuali Gnudi Laghi e Carruba le indagini sono partite dai riscontri sulle violazioni nella produzione del cemento secondo le accuse i materiali per produrlo venduti dall'ILVA a Cementir contenevano scarti e scorie pericolosi Cementir poi vendeva la materia prima ritenuta non in regola all'Enel che con una gestione definita promiscua traeva profitto dal risparmio per il trattamento di ceneri classificate come rifiuti semplici non trattate nelle apposite discariche per lo stoccaggio e la separazione dei materiali disponibili ma non utilizzate perché più costose non solo dalla centrale termoelettrica si rivendevano poi le ceneri a Cementir e tutto ricominciava le tre società si difendono rivendicando la correttezza del loro operato e assicurano collaborazione con la magistratura fa discutere una sentenza che ha deciso che un uomo che aveva ucciso il proprio figlio non merita l'ergastolo perché in realtà non era un figlio naturale ma un figlio adottato sarà la corte d'assise d'appello di Venezia di calcolare la pena per Andrei Talpis cittadino moldavo che nel 2013 uccise con una coltellata al petto l'allora 19enne Ion suo figlio adottivo il ragazzo si era messo di mezzo tra lui e la madre durante l'ennesima elite in casa fra i due in primo grado a Udine in appello a Trieste era stato condannato all'ergastolo adesso però i giudici della Cassazione basandosi sul principio del codice penale che distingue tra figlio naturale e figlio adottato e quindi se non c'è alcun legame di sangue tra assassino e vittima si può escludere l'aggravante di consanguineità che in caso di omicidio prevede l'ergastolo hanno deciso che la pena non potrà essere inferiore ai 16 anni una distinzione che a livello civilistico non esiste perché i figli naturali e quelli adottati godono invece degli stessi diritti riconosciuti dalla legge una vicenda che era arrivata alla corte di Strasburgo a cui si era rivolta la moglie dell'omicida Elisaveta Talpis vittima di violenze ripetute da parte del marito con problemi di alcol da lui minacciata col coltello e picchiata la donna l'aveva denunciato più volte per maltrattamenti per quelle denunce di violenza rimaste inascoltate dall'autorità italiana per la pericolosità dell'uomo sottovalutata e per la situazione di impunità la corte europea per i diritti umani a marzo ha condannato l'Italia per violazione dei diritti fondamentali rispetto alla tutela della vita al contrasto dei trattamenti inumani e degradanti e alla discriminazione è stato il primo verdetto a livello europeo per violenza domestica lo sport è stata una serata positiva ieri per le squadre italiane impegnate nella seconda fase a gironi dell'Europa League la Lazio all'Olimpico a porte chiusa ha avuto la meglio sui belgi del Sulte Waregem vincendo per 2 a 0 grazie alle reti di Caicedo nel primo tempo e di Immobile al novantesimo più sofferta invece la vittoria del Milan a San Siro contro i croati del Rieca e i rossioneri chiudono con un prezioso 3 a 2 arrivato all'ultimo minuto di recupero grazie alla rete di Cutrone prima però si erano fatti rimontare per due volte i gol di Andrè Silva e Musacchio importante anche il pareggio infine per l'Atalanta sul difficile campo del Lione con 1 a 1 con Papu Gomez che sul calcio piazzato pareggia nella ripresa dalla rete di Traoré e però in tutto questo viene esonerato l'allenatore Ancelotti e sono in tanti a contenderselo come quasi tutti gli allenatori aveva già provato la delusione dell'esonero ma con Juventus Chelsea e Real Madrid il divorzio era giunto a fine campionato ieri invece Carlo Ancelotti uno dei migliori tecnici del mondo è stato licenziato per la prima volta a stagione in corso la pesante sconfitta di mercoledì nella gara di Champions League sul campo del Paris Saint Germain gli è costata la panchina del Bayern Monaco che in patria è terzo a tre punti dal Borussia Dortmund capolista le prestazioni della squadra non sono state all'altezza delle aspettative ha spiegato il presidente Karl-Heinz Rummenig nella nota con la quale è stata ufficializzata la separazione dopo 15 mesi che il clima quest'anno non fosse dei migliori lo si era capito già durante l'estate i risultati altalenanti le critiche per un gioco definito poco brillante soprattutto rispetto al suo predecessore Guardiola e uno spogliatoio sempre più spaccato hanno pian piano lacerato i rapporti tra la società bavarese e Carlo Magno il tecnico che ha vinto tre Champions League e il titolo nazionale in quattro paesi diversi impossibile continuare insieme l'altro ieri a Parigi Ancelotti ha spedito in panchina tre senatori come Robben Ribéry e Hummels segnale evidente della scarsa serenità di un ambiente che neppure i boccali dell'Octoberfest sono riusciti a ricompattare facendo apparire lontanissimi i festeggiamenti del maggio scorso per il successo nell'ultima Bundesliga i migliori anni della nostra vita i migliori anni della nostra vita il Bayern è stato affidato a Willy Sagnol vice di Ancelotti aspettando l'arrivo dell'ex Dortmund Thomas Tuchel Carletto può comunque riprendere subito ad allenare la Germania gli è vietata ma l'Italia no e dalle parti di Milanello a qualcuno stanno già fischiando le orecchie sicuramente è meglio se allena invece che canta allora sono le 7.51 ci fermiamo qui e diamo la linea Paolo sotto corona noi ci vediamo domani mattina a partire dalle 7 con la rassegna stampa buona giornata grazie a tutti